Salve ragazzi e cari amici del web, lo vedete quello lì dietro le mie spalle con la divisa e il pischietto, siamo in Indonesia, quello lì è un indonese di bassa levatura, non sa leggere, non sa scrivere, è nato nelle foreste come tantissimi qua a Jakarta, però una cosa sa fare benissimo, sa menare di brutto col manganello e quando mena, lui mena per distruggere, per annientare, per ammazzare, uno sa fare solo quel lavoro lì, non sa fare nient'altro, è ignorante, non è colpa sua, è la società, la povertà che l'ha ridotto così, è colpa anche nostra, la globalizzazione e vi devo dire una cosa e vi faccio vedere, se io anche solo tento di attraversare la strada come pedone, perché sto scendo da un centro commerciale dove c'è solamente la gente ricca, lui ferma il traffico, ferma quelli con le moto, ferma a qualsiasi persona che passa col suo veicolo, solamente al mio accenno di voler attraversare la strada e se questo esita a fermarsi, lui lo massacra di botte con il suo manganello. Pa, 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 pa! Ecco, ferma il traffico, ciao! Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima, continuate a seguire questa entusiasmante puntata di Te la do io, l'Indonesia, vi mostrerò Giacarta, altre località, il Borneo ve l'ho già fatto vedere, ok ragazzi, alla prossima, ciao a tutti, ciao! Ma guardate, lì c'è un altro, adesso attraverso anche qua.